Ieri Innello Musumeci è entrato all'Ars per la prima volta da presidente della regione. Musumeci è ufficialmente al lavoro per costruire la squadra di governo. Nel fine settimana sono previsti gli incontri con Gianfranco Micichè e Saverio Romano. Ma soprattutto sabato alle 9.30 è fissata la proclamazione della Corte d'Appello. Poi forse già sabato o al massimo lunedì Musumeci si insedierà a Palazzo d'Orlean. Per l'occasione c'è stato un riavvicinamento con Crocetta. Mi ha telefonato, ha raccontato Musumeci, e si è congratulato per la vittoria alle elezioni. Ci vedremo per parlare della regione. Sul tavolo le emergenze del bilancio, mentre altri dossier riguardano le scadenze ravvicinate per la spesa dei fondi europei. Sarà questo il passaggio di consegne che darà formalmente il via alla nuova legislatura. Nell'attesa Musumeci proseguirà i contatti informali con i leader di partito. E alcuni punti fermi sono già stati individuati, per esempio sulla divisione degli assessorati fra le varie anime della coalizione. Musumeci ha deciso di fare una ripartizione che tenga conto della forza numerica emersa dalle urne. Il risultato permette di assegnare cinque assessorati a Forza Italia, uno dei quali è quello previsto per Gaetano Armau, che avrà la delega all'economia, mentre Vittorio Sgarbi verrà considerato fuori quota. L'altro nodo riguarda il peso dei popolari autonomisti. Gli assessori saranno due, dunque se Saverio Romano confermerà l'indicazione di Totò Cordaro e Roberto Lagalla, all'area che fa capo a Raffaele Lombardo, dovrà rinunciare ad esprimere un assessore. Va detto che le alternative non mancano. Gli autonomisti potrebbero avere la vicepresidenza del Lars da affidare a Roberto Di Mauro, che diventerebbe così il vicario di Gianfranco Micichè. Anche se Lombardo pressa per far entrare in giunta la presidente dell'ordine dei farmacisti di Caltanissetta, Mariella Ippolito, in quel caso anche Lagalla andrebbe dirottato verso uno dei posti di vertice all'Ars. Su questo Musumeci ha mostrato di non voler cedere nei primi colloqui con i leader. I posti per i popolari autonomisti sono due e Lagalla non può essere considerato un fuori quota. Così come due posti avrà l'Udc, mentre la lista che ha messo insieme la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni avrà un solo assessore, che visti i risultati dei singoli candidati dovrebbe finire proprio all'area Meloni. In pole position c'è il palermitano Giampiero Cannella. Nessun incarico è quindi previsto per i leghisti. L'ultimo assessore sarà indicato da Diventerà Bellissima, il movimento creato da Musumeci e sarà quindi un fedelissimo. Da giorni sono in fortissima crescita le quotazioni di Ruggero Razza, avvocato etneo e vero braccio destro del presidente. In Diventerà Bellissima l'altro alter ego di Musumeci è Giorgia Senza, deputato ragusano, che ha lasciato Forza Italia per tornare in un partito di destra. è un ex AN, per lui è probabile il ruolo di capogruppo all'ARS o un incarico nell'ufficio di presidenza della stessa ARS. Musumeci ieri ha detto ai fedelissimi di voler chiudere gli accordi sulla giunta entro due settimane e di voler trovare contemporaneamente gli equilibri che riguardano l'ARS. In ogni caso il presidente ha ribadito l'autonomia sulle scelte o le mani libere, un modo per rassicurare il sistema regione sul fatto che non ci saranno impresentabili in giunta e che le scorie della questione morale saranno superate con la prima fase dell'azione amministrativa.